Nuova ondata di aumenti per quanto riguarda i carburanti dopo quelli decisi dall'Agip martedì scorso. I prezzi di riferimento per benzina e gasolio sono cresciuti per tutte le compagnie. La Verde è in molti casi sfondato quota 1,35 euro al litro. Il gasolio sfiora quota 1,20 a livello più alto di prezzo la Shell, mentre la ESSO vende il carburante a 1,336. Secondo le associazioni dei consumatori, l'aumento del prezzo della benzina, che in una settimana è passato da 1,27 a 1,35 con un ricarico di 8 centesimi, costerà alle famiglie 171 euro in più l'anno tra costi diretti e indiretti.